si leggono, Michele, eccoci, Emiliano Salvetti, datemi un check video, un check audio, ditemi se posso procedere, a me dispiace per le interruzioni, ma spero capiate che non dipendono da me, YouTube fa i capricci, allora, ricominciamo da capo, ricominciamo da capo, il merito in merito al video fatto uscire da domingo, non abbiamo ripreso a collaborare, quello è un video che è stato prodotto, realizzato quest'estate, un video di cui peraltro me frega anche poco perché si parla di bodybuilding, è un video in cui io sto in palestra a macerarmi le palle con esercizi che a me non interessa fare, e di nuovo le scritte non si vedono, vabbè al diavolo, affanculo, sono esercizi che non mi interessano e che a quanto pare ho dovuto, comunque fare, ci sono altri video in forno di qualità ben più alta, altri video che riguardano una collaborazione con Telesca, con Quarto, due atleti paralimpici di levatura assoluta, due atleti che vanno alle paraolimpiadi, ok? E lì c'erano contenuti tecnici molto interessanti, riguardavano anche la tecnica di respirazione, video realizzati in un ambiente, in una palestra molto molto ben attrezzata, non so se questi contenuti vedranno mai la luce, la luce di uno schermo retroilluminato, però a quanto pare sono un po' in stand by, io non avrei obiezioni nel caso uscissero, Matteo Bernasconi, grazie per la donazione, ciao Marco, hai visto la live del Cerebero su Domingo che ne pensi, ti piacerebbe andare ospite? Sì, io non avrei nessuna obiezione, se mi invitano ci vado, spero di non dover andare fisicamente fino a Roma o a Milano dove si trovano loro, se basta una connessione a schermo condiviso io sono disponibilissimo a chiarire la mia posizione anche da Cerebero Podcast. Comunque questi video fatti da Domingo sono di ben alto livello rispetto all'ultimo che ha postato, si parla di anche Hermes Gasparini, uno dei, penso sia stato il vice campione mondiale di braccio di ferro, quello che ha ridotto Levan Sagnashvili alla maschera dell'ossigeno, quindi atleta formidabile, incredibile. Sono video già prodotti, già girati e già montati prima che scoppiasse questo scandalo, semplicemente la loro uscita è subordinata a delle scadenze temporali. A me dispiacerebbe se non dovessero uscire, Domingo si è suicidato all'apice della carriera, quando aveva tutto da perdere, le sue abilità erano increscendo, il video alla Doms Gym non rende giustizia alle sue capacità di regista e di intrattenitore che stavano incrementando sempre di più. Questa è la storia. Era da un po' di tempo che Domingo non riusciva a gestire, secondo me, la sua popolarità. Io penso che la sua popolarità gli avesse dato la testa e ha pagato in modo molto pesante. quindi io non ho ripreso le collaborazioni, nel mio video precedente sono stato chiaro, le collaborazioni con Domingo sono sospese a tempo indefinito. Domingo adesso non è in un bel momento, non è in gran forma, né a livello fisico né a livello mentale e soprattutto dovrà affrontare, secondo me, un lungo percorso di riabilitazione, non soltanto mentale, che secondo me gli farebbe bene, ma soprattutto mediatica. Domingo come persona e come personaggio deve essere riabilitato il pubblico. Come ribadisco, io prendo le più nette distanze dagli atteggiamenti di una persona che si permette di ridere su un padre in lutto, o comunque di parlarne in modo così leggero. Paragonandosi a Rick Gervais, sentendosi un comico che fa black humor, non c'era niente di humor, io non ho riso assolutamente quando ho visto quel filmato. Parlo del video di Lenny Dazzarine. Poi io nel privato mi sono sempre disinteressato della questione, per pudore, per delicatezza, certe cose non le voglio né ascoltare né registrare. Allora, vediamo un po' di domande. Purtroppo qua di nuovo la scritta si è oscurata, a quanto pare non si può leggere nulla. Non sto scherzando, riesco a leggere soltanto i messaggi, quelli grossi, con la donazione, quelli scritti in verde. Tutto il resto è una roba illegibile. No, qua mi fa zoomare, non riesco a vedere nulla. Chat dal vivo, messaggi principali, visualizzazioni chat, disastro assoluto. You shit, letteralmente, you shit. La prossima live ve la faccio su Instagram. Quindi spero di aver chiarito questa cosa, spero di aver messo in chiaro la mia posizione. Usciranno altri video con me e Domingo. Io non ho problemi a dare la mia autorizzazione. Io ho l'enorme libertà di non essere vincolato a Domingo. Cioè, il punto è che Domingo non mi ha mai pagato. La mia soddisfazione era conoscere Hermes Gasparini, fare braccio di ferro con Gasparini. Oddio, non è che fai braccio di ferro con Gasparini, è come fare braccio di ferro con un lampione. Non hai, non c'è neanche storia. Però lui, finché ti testa, ti può dare magari un parere, secondo me il top roll, ti viene meglio. Davide Teami, grazie della donazione, non vedo scritte, non vedo domande. Io, guardate, risponderò in separata sede se questa live avrà dei commenti e ci farò sopra degli altri video. Oggi YouTube è completamente in crash. I commenti sono sovrapposti, le scritte non si vedono. Quindi io non venivo stipendiato da Domingo. Quindi questo mi dava l'enorme, mi dava il grande lusso di poter decidere quali collaborazioni declinare e quali collaborazioni accettare. Mi dava la possibilità di scegliermi, insomma, gli ingaggi. Io non ho mai preso neanche un centesimo dalla monetizzazione che faceva Domingo nei video in cui ci fossi anch'io. Quindi avevo doppia libertà. La mia ricompensa era conoscere personaggi di alto livello. Io sono stato benissimo alla Zise a girare video con Gasparini, ho imparato tanto sul braccio di ferro. Sono stato accolto benissimo anche a Caserta dai due ragazzi che fanno panca paralimpica. Ho imparato tanto, ho imparato anche a conoscere da vicino la disciplina dello Strongman con Andrea Invernizzi. Quindi io non ho nessun rimpianto. Le ultime collaborazioni, esclusa alla Dom's Gym, sono state per me molto interessanti. La mia ricompensa è stata la mia erudizione, diciamo. Ripeto che non ho mai preso un centesimo da Domingo. Detto questo, volevo anche rispondere agli altri utenti, a quegli utenti che mi dicono ma Domingo ti ha ricattato, Domingo ti ha estorto, ti ha bullizzato. No. Allora, Domingo non può né minacciarmi né blandirmi, cioè non ha nulla con cui spaventarmi e non ha nulla con cui lusingarmi. Il fatto è che Domingo negli ultimi tempi era, secondo me, in gravi condizioni psichiche. Mi ricordo che l'ultima live che facemmo insieme gli disse subito o ti dà una calmata o ti pianto qua come un coglione e me ne vado. Poi devo anche dire che se io sono accondiscendente, mi dite che sono un'anima pia. Se gli rispondo per le rime passo per il macellaio che lo squarta con la dialettica e a sto punto, signori, è inutile cercare di mettere tutti d'accordo. D'altronde hanno sparato a Gandhi, hanno ucciso John Lennon, hanno crocifisso Gesù Cristo. Non sarò certo io a redimere l'umanità. Bene, detto questo, vediamo un po' cos'altro posso intuire dalle domande. Ah, sì, giusto, i video, i video. Domingo si è suicidato all'apice della carriera. Domingo ha cominciato a perdere colpi a livello di testa quando era al meglio, al massimo della sua creatività e della sua energia. Tolto, ripeto, il video della Doms Gym che per me è stata una marcitura di coglioni incredibile, ha tolto quello. Gli altri video sono stati, secondo me, molto ben realizzati e Domingo è stato molto bravo nel coordinare tutti gli operatori, tutte le star e a dare dei tempi tecnici di regia, secondo me, corretti. A me dispiacerebbe se quei video non vedessero mai la luce, a me piacerebbe che potesse uscire il video con Hermes Gasparini, con Andrea Invernizzi, con Donato Telesca, con Andrea Quarto, sono capitoli di una saga, tra virgolette, cinematografica, secondo me ricchi di divertimento e ricchi di input tecnici. Io da Quarto e Telesca ho capito molte cose sull'apnea, da Invernizzi ho capito come funzionano veramente le gare di Strongman, vedevo questo gigante buono cosparso di libidi per il trasporto di carichi dalle fogge più strane, con Gasparini addirittura ho provato a fare braccio di ferro, ripeto, non è che con Gasparini tu fai braccio di ferro, è come provare a spingere via un lampione, lui neanche si accorge che tu esista, il fatto è che comunque può darti dei consigli, cioè lui ti testa, ti sente, può magari darti delle indicazioni su quale potrebbe essere il tuo tiro migliore, se il look, se il top roll, se il press, quindi insomma avere a disposizione un campione di braccio di ferro, un vice campione mondiale, uno che ha ridotto all'ossigeno Sagnashvili, è una cosa interessante, come se un appassionato di calcio andasse a, non so, avesse Cristiano Ronaldo che gli spiega i dribbling o Messi che gli spiega come tirare i calci d'angolo. Comunque io non ho nessun rimorso di aver fatto quei contenuti, non è che vado fierissimo dei video alla Dom's Gym, non ero in condizioni fisiche presentabili, è pazzesco, si leggono soltanto le donazioni, prendi un altro dispositivo per leggere i commenti, ha le thrash, buona idea, grazie per la donazione, provo a vedere se riesco, abbiate un minuto di pazienza, vedo di farcela. Grazie. Bentornati su You Shit. Qua sia una lieve di ferita, grazie per il consiglio, abbiate pazienza, siate compassionevoli con un povero 41enne, Tecnoleso, grazie per la vostra compassione. Toglio e rientro audio, scusate, scusate. Ale Thresh, ecco di qua, grazie per il tuo contributo, apprezzato ovviamente, io rispetto ogni singolo centesimo, e sono grato per ogni singolo centesimo che mi donate, se posso meritarmelo, mi fa molto piacere. Allora, Ale Thresh, oh ecco un po' di scritte, sì sì, Ale Thresh ero e nazionale, che figura ragazzi. Allora, recuperiamo un po' di domande. Oh ecco, Michael Jackson, il vero Michael Jackson. Au, cosa ne pensi del moonwalk, che mi piacerebbe impararlo, ma penso di avere la mobilità, l'attitudine al ballo di, penso, Aroldo Thieri impagliato. Allora, andiamo un po' sul gossip, così tolgo sto bubbone e poi mi dedico al tecnico, oggi la live riguarda su come recuperare la forma fisica, e vorrei fare il mio lavoro, insomma, vorrei darvi quello che vi prometto nel titolo. Allora, vediamo un po', la Military Cup la rifarete? Io spero di sì, assolutamente, spero di partecipare, magari a una categoria inferiore vorrei alleggerirmi parecchio, magari gareggerò nella meno 93, di sicuro non nella meno 105, se riesco a perdere abbastanza peso, si intende. A me, ecco, un'altra cosa che io non rinnego assolutamente è la Military Cup, è stato un, secondo me, un grande capitolo dello sport italiano, è stato un revival di un'alzata gloriosa, io non rimpiango assolutamente nulla, io ho partecipato come agonista, mi sono distinto nella Master 1, ho preso comunque un podio nel meno 105, io ho conosciuto atleti straordinari, penso a Venturini, penso a Pici, quindi di sicuro non rimpiango assolutamente un'esperienza del genere, che ha fatto del bene a tutto il mondo del fitness in Italia. Vedo una donazione, un attimo, vorrei ringraziare personalmente chi mi fa le donazioni, mi sembra il minimo. Alessandro Cissello, ciao Alessandro, bello ritrovarti, grazie per la pazienza, questa live è un po' problematica. Allora, Domingo è un masochista, non lo so se sia masochista o altro, ma io vi dico che Domingo è incapace di fare del male alla gente, lui è incapace di provocare violenza fisica verso le persone, non è una persona crudele, è che lui, nello stesso modo in cui è incapace di infliggere dolore deliberatamente alle persone, è altrettanto incapace di rendersi conto quando crea del disagio alle persone, quindi quando Domingo aziona quel buco dentato che ha sotto il naso può succedere di tutto. Io posso dirvi che non lo ritengo un mostro, ma quando tu ti paragoni a Rick Gervais e ti senti un comico, ti fai il figo con il gossip parlando di un padre in lutto, ma ti esponi in modo veramente troppo, troppo plateale. Questo posso dirvi ragazzi, Domingo ha bisogno di essere riabilitato, non so se anche nel settore della salute mentale, ma di sicuro passerà molto tempo prima che Domingo possa avere di nuovo quell'affetto, quel calore del pubblico che una volta gli tributavano. Spero che non ci siano altre domande su questa faccenda, però se ci fossero, sono qua. Piero Micelli, come si può riabilitare secondo te? Di sicuro no, comunque non con video stucchevoli come l'ultimo che ha fatto, in cui erano 28 minuti, in cui ha compiuto penso una scalata sugli specchi con le ventose, una cosa per me irricevibile. Avrebbe dovuto fare un video sintetico corto dicendo sono Domingo Poliandri, ho detto una stronzata, sono veramente un coglione, starò fuori dai social per un po', cercherò di rimettermi in sesto, quando i tempi saranno maturi ritornerò. No, ho fatto tutta la ricostruzione cronologica del perché, del per come, su una cosa posso magari riflettere, io quel video lì l'ho visto a pezzi, alla fine si scusava anche con i collaboratori, io ho assistito a dialoghi, io ho assistito allo stress test che Domingo ha fatto a Gaggi, non vi posso riportare la conversazione, non rientra nei termini di legge, ma metaforicamente gli sputava in bocca, era una roba irricevibile, non puoi provocare così un collaboratore, pensare di passare liscia, poi non stai provocando una persona mansueta, stai provocando un dagestano, musulmano, un atleta di alto livello, campione di calisthenics, braccio ferrista, non la passi liscia, nulla contro i musulmani, nulla contro i dagestani, però per farvi capire, Khabib Nurmagomedov viene da quei posti lì, non sono razzista, non cominciate neanche i vari walk eccetera, lasciatemi perdere, sono innocuo, io sono innocuo. Allora, vediamo se c'è qualcosa per sviscerare questa questione. Marco Pitti dice, ma è stata amicizia tra te e Domingo, ma povero diavolo, a me basterebbe che lui non si autosabotasse, a me basterebbe questo? Io glielo ho sempre detto, finché tu ci stai dentro col cervello, io questi video li faccio anche volentieri, ma non voglio neanche soldi, se una cosa mi interessa ci vado. A me dispiace anche non essere andato in Sardegna, perché sembrava una vacanza e io le avevo già fatte. Poi ho saputo che c'era anche questo weightlifter campione italiano, a me sempre è piaciuto rispolverare strappo e slancio, confrontarmi con un paesista attualmente attivo nell'agonismo, poi ho saputo dopo che c'era questa cosa. Comunque ripeto, io ho la impagabile libertà di poter decidere quali collaborazioni a ballare e quali respingere, proprio perché non sono vincolato al fattore denaro. Allora, vediamo un po' se c'è ancora roba da chiarire su questa faccenda. Domingo è completamente privo di empatia, ricordo queste due parole in live qualche giorno prima del disastro. Ma sì, ma io non sono un profeta ragazzi, io con Domingo ci ho collaborato e anche collaborato è un termine da prendere con le pinze perché non venivo pagato. Io di lavoro faccio il personal trainer, non faccio il videomaker, non faccio il regista, non faccio l'intrattenitore. Comunque, non so se voi avete visto lo splendido film di Michael Mann, Collateral. Domingo è esattamente come Vincent, lui sale per il commissiono degli omicidi, insomma, lui sale per effettuare un omicidio, ha un bersaglio, lo va a trovare e il tassista che lo ha portato a destinazione si vede piombare sul cofano e sul parabrezza un corpo morente, quindi questo corpo gli piomba sulla macchina e gli frantuma e parabrezza, gli sfonda il cofano. Poi scende Vincent, il tassista è incredulo e gli fa, ma che è successo? E Vincent ci dice, ma pare che sia caduto, ma il tassista gli chiede, ma l'hai ucciso tu? Vincent gli risponde al tassista, no io non l'ho ucciso, io gli ho sparato, i colpi e la caduta l'hanno ucciso. Non so se avete visto Collateral di Michael Mann, ma la scena è esattamente così, il tassista porta Vincent a destinazione, lui esegue l'omicidio che gli hanno commissionato i suoi boss di Cugliacan e Cartagena, questo bersaglio umano viene praticamente, si trova a cadere dal balcone, cade sul taxi, il tassista esce, arriva Vincent e il tassista gli dice a Vincent, ma l'hai ucciso tu? Ma neanche per idea, io gli ho soltanto sparato, i colpi e la caduta l'hanno ucciso, i proiettili e poi la forza di gravità, Domingo è esattamente così, quando Domingo è sotto pressione comincia tutte le frasi con sì però, sì ma e non se ne cava nulla di buono, è impossibile ragionare con lui, non ammettereva mai, ma non è che non è capace di avere consapevolezza e questa è una delle sue più grandi risorse, perché lui continuerà tutta la vita a generare contenuti frizzanti, continuerà ad essere questo irlandese scherzoso, questo folletto del fitness, senza rimorsi, senza freni, senza limiti ed è, ripeto, una grande risorsa, che ha una grande forza, dall'altra parte lo espone a ritorsioni mediatiche veramente molto pesanti, come l'ultima che quanto pare gli è accaduta. Io prendo l'ultima domanda su questa storia, poi passerei al lato tecnico, andiamo un po', zizzi immortal, oh quante domande, che velocità, una cozzaglia di nulla. Marco Pittelli, puoi dirci cosa ne pensi onestamente del fisico di Pici? Sì, un attimo, vediamo giusto l'ultima domanda su questa faccenda, questo, no, pare che la cosa della bolla si sia abbastanza sgonfiata, bene. Andiamo sul tecnico. Sì, la live rimarrà caricata, sì, sì. Allora, Filippo Pici mi chiedeva qualcuno, Filippo Pici è un fisico, secondo me, gradevolissimo, molto robusto, molto tirato, le gambe sono indietro, perlomeno erano indietro quando Nocerino lo ha visitato. E qua apro una parentesi, mi dicono che Nocerino mi ha fatto a brandelli, Nocerino è un gentiluomo, è una persona di grande maturità, è stato anche tenero, Nocerino avrebbe avuto anche il diritto di incazzarsi con me, perché Nocerino è stato un grande culturista, ha fatto la storia del culturismo italiano e avrebbe anche potuto dirmi come ti permette di venirmi in casa nella mia palestra ridotto così. Avrei anche capito quello, ma Nocerino è un uomo colto, istruito, che sa parlare, che sa ascoltare soprattutto e ha capito che fossi in condizioni disperate perché mi ero allenato poco e male e avevo mangiato tanto e male durante l'estate. Ero in una forma fisica ben diversa da quella attuale, le mie foto ultime su Instagram ne sono la testimonianza, ho dovuto rimettere il culo in carreggiata con grande ritardo, io di solito mi presento in estate già in forma, già magro, già con l'addome in vista, però il calendario agonistico che ho sostenuto non me l'ha permesso, non cerco scuse, non cerco giustificazioni. Nocerino l'ha buttata anche sul ridere, peraltro con la storica frase beh comunque mai che vada, sei bianco, sei caucasico, sei veronese, sei etero, sei alto 1,82 m, la metteva un po' sul ridere. Invece è rimasto Nocerino innamoratissimo del fisico di Pici per rispondere alla domanda del mio cortese utente. Nocerino lo paragonava addirittura a Menzer, non aveva quel tono, quel timbro nella voce quasi nostalgico, quasi commosso, mi ricordi tanto Menzer, lo guardava. Pici come gambe è un po' indietro, perlomeno lo era quest'estate, la via era abbastanza chiara anche in tal senso, però per il resto Pici è un fisico di primo ordine, veramente molto fortunato. In merito al doping io rispondo a voi come risposto anche a Nocerino, pistola alla testa per me non è natural, ma si saltasse fuori che è natural e che è un fenomeno genetico, per me non c'è nessun problema, non devo difendere questo punto. A livello statistico sono di più i bombati dei fenomeni genetici, perché il fenomeno genetico è una roba che capita ogni 2-3 generazioni, come un cavallo con 5 gambe, come i serpenti con 2 teste, come i pesci con 3 occhi, è raro che capitino cose del genere, è molto più comune che gli atleti usino steroidi, quindi usando la logica e la statistica io penserei che non è natural il Pici. Salta fuori che invece è natural, saltasse fuori che invece grazie al suo retaggio nella ginnastica artistica ha avuto una finestra di opportunità che lo ha favorito, io dirò benissimo, salta fuori che è natural veramente poveretto, ma benissimo, meglio così, sono contento per te. Salta fuori che invece ci ha preso per il culo, che è un truffatore, che è un doppiato, che è fraddice di bombe, dirò benissimo, non è il mio metro di valutazione per un atleta, io guardo la capacità tecnica, guardo la bontà dei contenuti che offre, guardo la strategia di allenamento, ragazzi io faccio un metodo bulgaro, Abagiev dava lo stanazzololo agli atleti. Questo è il discorso, a me interessano le idee, poi gli steroidi sono sicuramente un amplificatore, per carità, il problema è quando gli steroidi diventano l'unica sorgente di crescita muscolare e lì si va nel bodybuilding bachelor in cui si basa solo sul pompaggio, sul cedimento muscolare, sulle split routine, vabbè, però queste sono mie considerazioni che non voglio esternare, io non parlo di strategia, io sono apertissimo a parlare di tecnica di lavoro, sono apertissimo a parlare di esecuzioni, sul discorso strategia e programmazione io ho chiuso la serranda. Paolo Bossini, grazie Paolo per la tua gentile donazione. Pediatra Paola, ciao Enrico, Enrico Ratti, alias Pediatra Paola. Paolo Ferretti, Marco perché? Marco, XK, Deci, interrompere le collaborazioni con Domingo solo perché si è espresso Lazzaro, cioè dai così non si fa. Ascolta, tu non ti rendi conto Ferretti che Domingo ha perso 4 sponsor, non è che io sono quello stravagante, si parla non per me, ma dove si parla di business, Domingo ha perso collaborazioni con delle ditte di attrezzature, con ditte di integratori, con case editoriali, non parliamo di bruscolini, non è che io faccio il prezioso, si parla di collaborazioni commerciali troncate, collaborazioni commerciali con ditte per le quali lui era agente mandatario. Non so se ti rendi conto, non so quanti anni tu abbia, ma nel mondo degli adulti le cose funzionano così, con tutto rispetto per la tua opinione, sei chiaro, non voglio essere aggressivo, che poi mi dicono che io ho una personalità tossica, corrosiva, sarà anche vero, cerco di migliorarmi. Oh, questo mi commuove, No Comment mi scrive, dovevi fare il conduttore televisivo, la tua capacità dialettica è sprecata nel mondo del fitness. Sto piangendo, ma non dagli occhi, grazie. Allora, il discorso tecnica, io ogni anno ho diversi consulenti, io quest'anno ho avuto, ho chiesto consulti a Gargiulo, Meloncelli, attualmente sto lavorando con una valentissima ragazza, Annalisa Motta, campionessa di streetlifting, io l'avevo contattata per mettere a posto le chin-up, perché ogni anno la tecnica di lavoro deve essere aggiustata, perché oggi le trazioni le fai con le gambe dritte, c'è un regolamento dello streetlifting e un professionista dell'insegnamento deve sempre aggiornarsi. Ho visto questa ragazza su TikTok, faceva un tutorial sulle chin-up, l'ho chiamata e ho detto, senti, non è che niente niente mi fai delle consulenze, se hai spazio in agenda. Mi ha messo a posto le chin-up in un mesociclo, è stata molto efficace, a chiedere e le dico, senti, se per caso hai ancora magari voglia di lavorare con me, non è che mi metteresse posto anche lo stacco sumo, perché sai, io insegnare, sono capace di insegnarlo, però ho sto retaggio qua della pesistica, l'alzata è molto lenta, la schiena è sempre rigida, come un asse da stiro. Lei ha accettato e in un altro mesociclo mi ha sistemato lo stacco sumo, cosa di cui le sono, le sarò sempre grato. Quando ho avuto il suo ok ero veramente molto soddisfatto. Di recente al peso mio di 95 kg ho sollevato 250 kg, io quei cari kg li alzo quando sono sopra il quintale, ecco. Quindi come rapporto peso-potenza posso veramente dire che questa persona ha fatto un ottimo lavoro, oltre a avere la mia retribuzione, anche la mia personale gratitudine. Quindi la tecnica è sempre un campo aperto, cioè il discorso è che siamo tutti, la conoscenza, faccio una metafora, se no mi inceppo, sembro un novantenne scassato. Allora, se la conoscenza è un vasto oceano, il più bravo di noi raccoglie conchiglie sulla spiaggia, ok? Questo è il punto. Bisogna sempre cercare di tenere aperta la mente e aggiornarsi. Questo è il discorso. Eterno allievo secondo nessuno, diceva Mike Tribuzio. E poi penso alle frasi di TikTok, mi hanno buttato in mezzo ai lupi, ne sono uscito capobranco. Penso se ti buttavano in mezzo alla terra, vabbè. Allora. Ah, le calorie, giusto, giusto. Quando devo perdere grasso, io non conto le calorie, non lo ritengo un metodo sensato, un metodo scientifico. Io semplicemente faccio la guerra ai carboidrati. Io non ho nessun problema a mangiare grassi, io posso anche mangiare una scodella di 100 grammi di frutta secca, un alimento ricchissimo di grassi, grassi vegetali ovviamente. Quello che veramente mi crea problemi quando devo dimagrire sono i carboidrati, quindi io baso la mia dieta su proteine, grassi e fibre sostanzialmente. Questo è l'unico modo che conosco per avere una efficace lipolisi. I carboidrati bloccano proprio questo processo perché quando si alza l'insulina si abbassa il glucagone di conseguenza, è molto arduo perdere grasso quando si assumono carboidrati. Si possono ciclizzare, si possono modulare, per carità, nulla contro queste strategie, io preferisco andare dritto al sodo, togliere il più possibile e avere un dimagrimento costante continuo. Un argomento di cui parlerò diffusamente su Patreon nei prossimi giorni sarà proprio il connubio tra allenamento e dieta in restrizione glucidica, mettendo in luce proprio la relazione tra il combustibile usato per allenarsi e l'allenamento stesso, quindi cercare di utilizzare un allenamento adeguato a un regime di restrizione glucidica. novembre si prospetta particolarmente ricco di video, video molto tecnici, già a ottobre ho fatto un gran lavoro, a ottobre mi sa che ho messo 8 video su Patreon, vi consiglio di restare connessi perché i video si aggiornano ogni mese e l'archivio tecnico si ingigantisce, chi si iscrive tardi deve poi sbobinarsi oltre un centinaio di video, io consiglio di tenersi sempre iscritti, mantenere costante l'iscrizione e sorbirsi, centellinarsi 3, 4, 5 video al mese, non iscriversi un mese, farsi fuori a flusso continuo 100 video e poi staccare la spina, non è il modo secondo me migliore di apprendere le cose. Come diceva il mio professore di anatomia, Zancanaro, l'alluvione distrugge i campi, la pioggerellina fa crescere l'erba, non mi ricordo che cazzo diceva, mi ha segato 4 volte in anatomia, no, sto illuminare della medicina mi ha bocciato 4 volte in anatomia, però qualche metafora la azzeccava, no, io è un grande professore sicuramente. Allora, cosa ne pensi di trap bar e safety bar? Perfetto, allora, anche per chi pratica altri sport, sì, ho letto la domanda. Ho appena finito di fare un tutorial su Patreon, l'ho fatto il mese scorso, un tutorial sulla trap bar, esaminato giuntura per giuntura, dalle caviglie ai polsi, è tutto su Patreon, io su YouTube parlo di concetti generalisti, non è che tolgo da YouTube per mettere a Patreon, io su YouTube ho sempre mandato dei messaggi basati sui principi, basati sui concetti, se devo andare veramente nel tecnico o lavoro in coaching one to one o se no faccio delle conferenze su Patreon, pallosissime conferenze con il mio stile stucchevole, ridondante, tedioso, mi rendo conto, però le cose stanno così. Marco, cosa ne pensi del project Invictus e ciò che condividono? Non sono aggiornato sul project Invictus, non è un canale che seguo, però mi dicono che sia molto valido, però io preferisco raccogliere informazioni direttamente dai consulenti, io prima ancora di conoscere Poliandri andavo ai seminari di Yuri Belkin, l'ho anche ingaggiato come consulente Yuri Belkin, prima di collaborare con il fior fior della Crema, della FPL, io comunque cercavo informazioni attraverso consulenti, ne ho cambiati tanti, ne cambio tuttora, due o tre all'anno, quindi mi tengo sempre aggiornato, ma è per mia comodità, preferisco avere un consulente da spremere, piuttosto di sorbirmi, sbobinarmi video interminabili, conferenze, farmi corsi istruttori, sono già laureato in scienza motore, ho già fatto corsi istruttori come nel powerlifting, nel fitness, col centro studi Ravenna, preferisco andare dritto al sodo, prendere un consulente e mungerlo, sono sincero. Se voi siete giovani, se avete ancora energia mentale, io vi consiglio di fare tutti i corsi che vi pare, se avete voglia e entusiasmo, accumulate diplomi, andate alla FIPE, all'AIF, alla FIF, dove vi pare, vi piace anche la locandina del corso, fatela, io fino ai 39 anni facevo anche il seminario di arti marziali, io ho fatto l'Heltway con Dave Leduc in persona, era qua alla palestra antirazzista di Brescia, io due anni fa, tre anni fa, non mi ricordo, davo le testate al sacco con Leduc che mi guardava, perché mi diceva la tecnica, tu devi tenere la testa così, colpire con la fronte così, il naso si spacca, comunque mi sto annoiando, scusatemi, vedo che infatti il pubblico sta calando giustamente, colpa mia, colpevole. Infatti quando si parlava di domingo, di questo scandalo, il pubblico era bello in fermento, adesso che si parla di pallosissime questioni tecniche, l'audience sta calando, questa è una delle grandi maledizioni della gente dello spettacolo, piegarsi ai capricci dell'audience, neanche il più puro può sottrarsi da questa logica terribile. Cosa ne pensi dell'espulsione di domingo dalla FIPL? Ignoravo che domingo fosse stato espulso dalla FIPL, avevo saputo che gli avessero appioppato una squalifica, ha peraltro da rivedere, ma l'espulso non mi risulta, forse mi sono perso qualcosa, in tal caso mi informerò. Allora Marco, segui una dieta dove calcoli macro e calorie. No, no, io non calcolo nulla, io mangio proteine e grassi a sazietà, quando ho fame mangio proteine, oppure mangio grassi, oppure entrambi gli alimenti, non conto né le percentuali di macros, né le calorie. Io per dimagrire devo avvertire un costante senso di fame, ma fame da carboidrati. Io posso anche mangiarmi due etti e mezzo di carne vegetale, ingurgitando oltre 60 grammi di proteine, il fatto è che devo stare alla larga dai carboidrati. Posso anche riempirmi lo stomaco fino a scoppiare, ma se non mangi i carboidrati, il tuo cervello che va a glucosio ti chiede i carboidrati. Finché tu hai questa richiesta che continua a pulsarti nel cranio, tu sai che stai bruciando grassi. Il famoso sgarro che fanno i culturisti non è mai uno sgarro a base di petto di pollo, non è mai uno sgarro a base di salmone, è sempre uno sgarro a base di pizza, di cheesecake e questa è la storia. È inutile che si sta lì con le calorie, è inutile star lì con le calorie, qua dal punto di vista io sono proprio tozziano, non ha senso contare le calorie, ha senso basarsi sull'azione dinamico specifica del cibo, cioè sull'impatto ormonale che ha il cibo sul corpo e sull'impatto poi chimico che hanno gli ormoni sul corpo. Ma sono cose che ha scoperto Barry Sears negli anni 90 con la dieta zona, signori, e Barry Sears era un biochimico, non era un pasticcere, non era un idraulico, era un biochimico, lavorava al meat. Scusate, mi sono un po' accaldato. Alessandro Di Mauro, Marco, l'alcol che è effetto fa nel nostro organismo in termini di ipertrofia, è vero che l'alcol inibisce la sintesi proteica? Di sicuro l'alcol non fa bene, di sicuro non promuove l'ipertrofia muscolare, a meno che non si vada proprio a… sono calorie sporche, posso capire che magari un atleta in bulk può prendere calorie veloci da dei super alcolici, l'alcol ha 9 calorie per grammo, se uno è ossessionato dalle calorie e deve raggiungere una quota per andare in bulk, può prendere dall'alcol, ma non è certo una scelta sana, io di sicuro non la consiglio. Se uno beve alcolici deve farlo per puro piacere, sotto controllo, senza mettersi in macchina, possibilmente bevendo bene, non voglio fare la parte di Filippo Champagne per carità, non approvo il suo stile di vita così dissoluto e goliardico, lo rispetto ma io non lo farei mai, però dice una cosa giusta Filippo Champagne, bevete bene, non serve che vi inquartate con super alcolici a basso costo, io vi dico sempre, non abusate di alcol, non drogatevi, cercate di condurre una vita sana e virtuosa, ovviamente, ma se proprio uno ha la passione dell'alcol o del tabacco, che sono le due, diciamo, tra virgolette droghe che consente lo Stato, che siano assunzioni centellinate e della miglior qualità possibile, senza sballarsi, semplicemente gustando, questo è il mio umidissimo, trascurabile, criticabilissimo punto di vista. Ma Domingo è stato squalificato dalla FIPL per la storia Lazzarin? No, no, era un'altra storia, sono abbastanza reticente a parlarne perché Domingo ci era raccomandato di tenere tutto quanto sotto silenzio, quindi non voglio scendere nei dettagli, ecco, ma non c'entra Lenny Dazzarin, non c'entra. Quindi i nutrizionisti sbagliano metodo di lavoro? No, non ha senso che fai il provocatore Michele, io non dico questo, io ho i miei sistemi e intendo mantenerli, non ho mai sindacato sul lavoro dei nutrizionisti, se i miei clienti hanno il nutrizionista che li segue a me fa piacere, se mi chiedono qualche consiglio do loro la mia opinione, ma io non ho mai fatto nessuna crociata, nessuna campagna contro i nutrizionisti, i nutrizionisti seguono un percorso di studi strutturato e sono obbligati, se vogliono laurearsi, a conoscere tutte le metodologie per il conteggio, per il calcolo, per la quantità del cibo, quindi possono cercare di fare una dieta bilanciandola sulle calorie, bilanciandola sui macronutrienti, bilanciandola sul peso, io di sicuro non ho mai fatto, ne farò mai crociate contro i nutrizionisti. Non mi interessa assolutamente spettacolarizzare il dibattito alimentare, anche perché io non sono un biologo nutrizionista, io di mestiere non sto lì a scrivere diete in pdf, a calcolare i pasti alle persone, io sono un personal trainer, non sono un nutrizionista, non sono un dottore. Marco, hai notato un calo di forza scendendo di peso? Sì, ma quest'anno è molto molto ridotto perché non ho fatto le split routine, per me le split routine sono una specie di vacanza in cui faccio il pump, mi diverto, mi estrovertisco, magari salta fuori qualche scatto carino per Instagram, quest'anno non ho nessuna voglia di scherzare, quindi sono in bulgaro, integralista come la cozza di Papaleo e sono in restrizione glucidica, quindi il connubio bulgaro, più restrizione glucidica sta funzionando molto meglio delle split routine, che ripeto facevo per dare un attimo di tregua. Tenete conto, per esempio, vi spiego una cosa importante, io quest'anno ho fatto delle vacanze molto lunghe e mi sono allenato per 15 giorni con palestre soft core, diciamo, quindi con macchine, con cavi e poi addirittura in un certo periodo soltanto con una copia di manubri regolabili, con due manubri regolabili, quindi ero arrivato in vuoto e grasso, tra l'altro in vacanza mi concedevo un regime alimentare non proprio sanissimo, quindi mi concedevo dei dolci, mi concedevo dei carboidrati in eccesso, quindi sono arrivato senza muscoli e con tanto grasso e di sicuro le split routine hanno contribuito, se avessi almeno fatto bulgaro arrivavo cicciottello ma carico di muscoli, per quanto possa consentire un fisico come il mio, che è un man fisico alla fine, purtroppo a quanto pare il connubio di palestra soft e di dieta poco gestita mi ha tradito, ripeto non ce l'ho con Nocerino, non ce l'ho con Nocerino, avrebbe anche potuto incazzarsi e dirmi ma tu come ti permetti di presentarti da me che ho fatto la storia del bodybuilding, che andavo sulle copertine ridotto così, come ti permetti di arrivarmi alla Perfect Gym così conciato, poi con Pici vicino figuratevi che era all'8%, chiaro che è come essere interrogati dopo il primo della classe Nocerino l'ha messo a sorridere, è stato comprensivo, è stato quasi paterno, ma anche con Poliandri quando il domingo si è ritrovato in mezzo a questo vortice di merda, l'unico a dargli una parola di conforto è stato Nocerino, ha detto almeno ragazzi evitate le spedizioni punitive, evitate queste bande armate di fiaccole, di torce che vanno a parole di puro buonsenso, che riprendono anche le mie, le cose vanno fatte con ordine e con decoro, se ci sarà una causa si vedrà, di sicuro, anzi addirittura domingo era commosso, io ho sentito un suo audio in cui piangeva proprio, era commosso dal fatto che almeno uno, almeno è Mirbinda, Marco ci puoi parlare del percorso accademico, qualche consiglio per raggiungere un perfetto connubio tra lavoro, studio, allenamento e chiedere la certità, tu non puoi evitare gli errori, tu devi fare il tuo percorso, incassare e rialzarti, non c'è la strada tracciata, devi andare avanti con il macete, evitare i rovi e cercare di sopravvivere, tanto siamo tutti di passaggio in questa balle di lacrime, che tu abbia 17 anni, io 71, siamo tutti di passaggio. Giuseppe Ciardo, Marco ti ringrazio per aver risposto alle mie domande, prego. Alex Zuccolina, ma Alex non so di codici sconto, non capisco, io ho un codice sconto per un negozio di integratori qua di Brescia, gestito da due ragazzi simpatici che mi hanno offerto questa cosa, non lo so, non lo so, peraltro mi pagano in integratori, mi pagano gli sconti sugli integratori, neanche mi danno il bonifico, non so di codici sconto, non lo so, magari hanno tenuto attivo il codice sconto, ma non danno la provvigione a domingo, potrebbe essere, non lo so, non lo so, la butto lì. Marco Pittelli, come vivi oggi lo strappo al pettorale? Una favola, quest'anno è il ventennale, io mi sono strappato nel 2003, oggi siamo nel 2023 e mi sono strappato a 21 anni, non è una gioia guarda, lasciamo perdere, va. In fase di bulk come gestisci i macro? In fase di bulk tengo molto alte proteine, tengo generosi grassi e sono molto indulgente con i carboidrati, io quando c'era il covid ero arrivato a pesare 107 kg, ed era l'epoca in cui ho staccato 272 kg, però sembravo veramente un cassonetto, cioè no, no, no. Che integratori usi? Mi chiede DS. Ho fatto dei video esaurienti, dettagliati e approfonditi su Patreon. Io su YouTube non posso neanche parlare di queste cose, non posso certo davanti a un pubblico generalista, a un pubblico di massa parlare di temi così delicati come l'integrazione, preferisco dare dei consigli a un pubblico selezionato, ed è selezionato dal momento stesso in cui paga, perché è facile insultare gratis, è facile intervenire gratis senza competenze, quando invece uno dà valore a quello che ascolta pagando, allora il clima è molto più conciliante. Vi esorto sempre, pagate la gente, il denaro è il secondo miglior lubrificante sociale, il primo penso che lo conosciate. Ciao Marco, cosa ne pensi di nevio e lo stirato? Non lo conosco, l'ho visto in trasmissione alla Zanzara, ma non lo conosco, si parla di un caso di ludopatia, dovresti chiederlo a uno psicologo. Luca Storari, collaborerai ancora con Poliandri? Allora parliamo di collaborazione, io di lavoro faccio il personal trainer, io sono un consulente che a propria volta paga altri consulenti per restare al passo coi tempi, il mio lavoro è questo, domingo non mi passa clienti, domingo non mi mette soldi in mano. Posso dire di aver fatto con lui un sodalizio multimediale, ma io di lavoro non sono un videomaker, non giro con il cameraman. Poi spesso mi chiedete del mio eloquio, la mia dialettica, la mia abilità verbale, il mio vocabolario complesso e sofisticato, sì ho capito, sono sicuramente degli accessori molto gradevoli che abbelliscono la mia persona, già peraltro sulla bocca di tutti, per le evidenti caratteristiche fisiche di perfezione, bellezza, armonia, simmetria, senza contare poi quell'esuberante carisma e fascino che proprio traccima da ogni mio poro. Sono ovviamente sarcastico, sono ovviamente che sto scherzando. Dunque, cosa ne pensi del West Side Barbell? Io ho recensito il libro di Louis Simmons, West Side Barbell Method. L'ho recensito proprio su YouTube. Ah, questo è interessante, c'è la valsalva. Marco, non riesco a recuperare quando faccio la valsalva. Mi dolgono i dorsali, soprattutto quando non alzo le bobine nello stacco. Le bobine. Vabbè, comunque è interessante perché di valsalva, di respirazione idraulica, se ne parlava proprio nel video che ho fatto con Domingo a Caserta da Telesca e da Quarto, i quali anche loro sono penso un imbarazzo per questa storia e non hanno autorizzato la divulgazione del contenuto. Al momento mi pare, mi risulta, poi sono cose delicate, io non voglio sapere nulla. Per me la ricompensa è stata essere lì nel mondo fisico, nel mondo reale. Io ho conosciuto personalmente Quarto, personalmente Telesca e questa è la mia ricompensa. Io sono già appagato così. Quello che voi aspettate di vedere nel metaverso, nel virtuale, io l'ho già vissuto nel mondo reale, di persona. Io sono già a posto così, a me dispiace per il pubblico che si vede privato di un contenuto, secondo me, ricco di spunti tecnici e se posso permettermi anche di umanità. Io sono stato onorato di conoscere questi due ragazzi. Frank Mencoboni, ciao Marco, ti ascolto mentre fumo un toscano, sempre interessante. Ammazza, fumi leggero proprio, toscano. Ciao Marco, potresti parlare del tuo percorso universitario? Sì, ho fatto un video a riguardo, mi sono laureato a Scienze Motorie, una delle migliori università d'Italia. L'Ateneo di Scienze Motorie Verona è uno dei primi in assoluto in Italia. Dico subito che ero triennale, il biennio comprendeva settori che non mi interessavano e per i quali non ero neanche portato. Quindi ho preso in tre anni la mia laurea triennale, mi sono laureato, tesi sulla dieta zona e poi lì ho concluso il mio percorso universitario. Ringrazio tutti i miei compagni di corso che sono il meglio della gioventù, veramente leali, generosi, affettuosi. Scienze Motorie è un bellissimo ambiente dal punto di vista umano, per me lo è stato sicuramente. Il mio percorso di laurea è durato dal 2009 al 2012 e sono stato attorniato, coccolato da ragazzi veramente splendidi. Io ero più grande di loro perché mi sono laureato tardi, ho ripreso gli studi a 27 anni e li ho conclusi a 30. Io dopo il liceo scientifico ho lavorato, poi ho deciso di riprendere gli studi a 27 anni e quindi ero più vecchio di loro, avevo 7 anni di più, però mi hanno trattato come uno di loro, mi hanno accolto per il migliore dei modi, mi hanno aiutato con le pratiche burocratiche per la laurea, mi hanno fatto quasi da badanti. Ok, ok, sono pallosissimo, qua l'audience sta scendendo, come sempre siamo tutti quanti succubi delle statistiche. Sì, meno discorsi strapparacchimi e più cose interessanti, concrete. Allora, faremo un po' di ragazze, dai, siete giovani voi, lasciate stare i ricordi di un fossile di 41 anni. C'erano ragazze e scienze motorie, il meglio del meglio, ginnaste, atlete di atletica leggera, corpi scolpiti dalla più ferria disciplina fisica, volti stupendi, creature angeliche. No, io in bianco sparato te lo dico, io proprio non ho neanche potuto intingere una falange in quel band di Dio, ero lì per, ero dedicato agli studi, poi comunque vicino a me c'erano maschi sicuramente più attraenti, centometristi scattanti, cestisti di un metro e 95. Io all'epoca ero un marzialista vagamento muscoloso, chiuso e introverso come sono ancora oggi e non ho certo potuto gustare quelle prelibatezze che offriva l'Ateneo. Allora, vediamo un po', altre domande, andiamo un po' in velocità. Porterei contenuti con Filippo Picci, ancora, ho fatto la military cup con lui, mi ha anche soffiato l'argento per un gomito sinistro, ci capiterà, sì, volentieri. Mi piacerebbe fare con Picci arti marziali, è un grande lottatore, è stato campione italiano di grappling, come striker non so come c'è la cava, però qualcosina sulle arti marziali con Picci, sì, mi piacerebbe. Anche in questo periodo Picci è molto vicino a Domingo, lo sta coccolando, lo sta aiutando a risollevarsi a livello psicologico. Penso che sia una cosa molto bella da parte di Picci, perché vi garantisco che Domingo ha preso in faccia un treno con tutti i binari. Cosa ne pensi di Barbero, lo storico, il professore di storia? Non condivido molte sue posizioni in termini di macro politica, come storico sicuramente è molto erudito, ma anche sul discorso geografico non mi trovo con lui su alcune sue ricostruzioni, però io sono Marco P.T. lui è Barbero, quindi preferisco non approfondire. Marco, stagli vicino anche tu a Domingo? No, se gli sto vicino a Domingo gli do il colpo di grazia, Domingo con me non si trova bene a livello personale. Mi considero un vampiro energetico, una persona tossica, infida, catastrofica, depressa. Io rispetto la sua posizione, non impongo mai la mia compagnia nessuno e rispetto la sua posizione. Se andasse a trovarlo non penso che verrei accolto molto bene e rispetto il suo volere. Gli ho comunque scritto, gli ho comunque comunicato il mio dispiacere per questo suo suicidio mediatico perché era veramente all'apice della professione, stava andando veramente forte. Che bisogno c'era di fare lo spavaldo con… vabbè. Però comunque ognuno ha il suo karma, suppongo, questa è un'esperienza che doveva attraversare. Hai visto l'incontro tra Gannou e Tyson Fury? No, non mi è piaciuto tanto come incontro. Condivido qua l'analisi di Wilson Basetta, a.k.a. Maurizio Arena, sull'attuale condizione del pugilato professionistico, però sono tutti bravi con la faccia degli altri, sono tutti i pugili con la faccia degli altri, sono tutti i picchiatori con le mani degli altri. No, non è il mio tipo di box, non mi piace tanto quel pugilato lì, ma io poi in realtà non sono un tecnico FPI, io sono un marzialista. O forse lo vero. Ciao Marco, un personal trainer con partita IVA ordinaria, secondo te riesci ad arrivare a fine mese senza mangiarsi tutto quanto in tasse? Devi consultare il tuo consulente fiscale. Ci sono tanti regimi per chi vuole fare questo lavoro, mi pare che il sistema ordinario non sia tra i più consigliati, però devi avere un buon commercialista. Mi ricordo che domingo sponsorizzava Fisco Zen. Se gli è rimasto attaccato Fisco Zen, magari se non l'hanno buttato fuori anche loro, puoi chiedere domingo. Marco conosci il Cerbero Podcast? Se sì, se ti invitassero andresti. Sì, io non ho problemi, io andrei anche a Muschio Selvaggio, anche se non sono un fan di Fedez, ma non ho problemi. Se c'è da dialogare tra persone civili, se c'è un dibattito civile, io ci sono, non ho nessun problema, assolutamente. Non mi piace magari la musica di Fedez, non mi piace il fatto che abbia fatto lo spottino per Conte sulle mascherine, non mi piacciono alcuni suoi atteggiamenti, ma se si parla di lavoro, Fedez è un professionista. Cerbero Podcast? Non lo seguo, so che si sono occupati di questa vicenda, però hanno speso delle parole gentili verso di me. Mi hanno segnalato un video in cui parlavano di me in modo gentile, effettuoso, con stima, quindi il minimo che io possa fare è ricambiare la loro gentilezza, quindi il signor Marra e i suoi accoliti possono contare sulla mia disponibilità. Allora, vediamo un po', quanto tempo è passato? 62 minuti. Moschio selvaggio è per The Bunkers? Ma sì, ma sarà anche per The Bunkers, hanno una loro linea editoriale, suppongo, di sicuro non arriverò lì a parlare di 11 settembre o Grande Tartaria. Dunque, ciao Marco, digiuno intermittente, che ne pensi? Una strategia molto aggressiva che consiglio di effettuare sotto scrupolosa e costante supervisione. Cicalone ti piace? Cicalone ha rivoluzionato il mondo dell'intrattenimento marziale, Cicalone Pugile Tecnico FP, insegnante FP, ha fatto una carriera sfolgorante, lo ricordo quando ancora faceva i video fatti con la telecamerina vicino al Colosseo che parlava di colpo sotto, poi si è ingigantito con tutta una serie di sponsor, mi pare Foodspring, poi ha collaborato con grandi atleti e si è fatto conoscere nel mondo dell'internet, dell'internet di YouTube marziale, YouTube pugilistico. Esami piuttosto durante il tuo percorso universitario, fisica sicuramente, fisica, l'ho fatto 5 volte, ho fatto 5 volte. Poi gli altri due più duri sono stati Psicologia 2 e Anatomia, ci ho buttato il sangue lì veramente, ma fisica in particolare non riuscivo neanche a trovare i testi su cui capire le domande che mi facevano, fu un calvario. Invece l'esame più bello fu Pedagogia speciale col professor La Rocca, luminare assoluto, genio della didattica, un canuto signore che già all'epoca avrà avuto almeno 70 anni, sembrava Shang Tsung di Mortal Kombat 1, grandissimo scrittore, io ho ancora il suo libro da lui scritto. Poi le sue lezioni universitarie erano talmente interessanti che io neanche prendevo appunti, lo ascoltavo come se fossi a teatro praticamente, cercavo di bere ogni sua parola, eratico, autorevole, non ha mai alzato la voce una volta, per tenere il silenzio li batteva sul microfono, finché il pubblico rumoreggiava, li batteva sul microfono, così il pubblico sentiva questo rumore e sintonizzava il tono della voce su registri più bassi, così poteva sentire questo microfono e senza neanche accorgersene l'audience era calmo, per dirne una. Vabbè, mi sto annoiando ancora. Come moduli l'allenamento per il recupero della forma fisica? Non modulo nulla, quello che funziona già lo conosco, il problema è variare i macronutrienti, gestire i macronutrienti, se dovete focalizzarvi su qualcosa per la dieta, sono due scuole di pensiero che a me non fanno impazzire, ma se dovete seguirne una o l'altra, tra la scuola delle calorie e la scuola dei macros, io vi consiglio almeno di buttarvi sui macros, ecco. Poi io sono vegano ragazzi, quindi cosa volete che vi dica? Per me la carne è la carne vegetale con le proteine del pisello, per me non esiste il latte, non esiste l'uovo, per me le proteine sono integratori vegani, carne vegetale, poco altro. Chi vincerà l'Olimpia, il mister Olimpia? Ho saputo che Nick Walker ha avuto un brutto infortunio alla gamba, non so dettagli, non devo ancora documentarmi, mi pare che abbia avuto un brutto incidente alla gamba Nick Walker. Ragazzi, qua direi che siamo addirittura d'arrivo, se ci sono domande o comunque questioni molto stringenti alle quali non ho risposto nei miei discorsi video o in questa live, fatemelo sapere, io mi trattengo ancora poco, però non vorrei lasciare nulla di irrisolto. No dai, siamo già scesi sotto gli 800, ho veramente abusato della vostra cortesia, della vostra pazienza. Vi ringrazio comunque per la vostra compagnia, per il gentile sostegno, ringrazio tutte le donazioni che mi sono pervenute, grazie di cuore. Grazie.